E quando il signor Hiram Otis, ministro degli Stati Uniti, acquistò Canterville Chase tutti, tutti gli dissero che stava commettendo una vera sciocchezza, in quanto il luogo era senza dubbio, infestato di fantasmi. Anche Lord Canterville, che infatto d'onore è un uomo molto scrupoloso, fu chiarissimo. Posso testimoniarlo? Stavo dando aria alla casa e l'ho sentito personalmente affermare che neanche lui soggiornava più tanto volentieri a Canterville da quando sua zia, la duchessa vedova del duca di Bolton, vide una specie di fuoco fatuo formarsi nello specchio, poi uscirne trasformandosi in due occhi spettrali che si fermarono proprio qui, dietro la nuca, fissandola. La signora Amne è la governante del castello, conosce bene l'entità segreta che lo abita. Scusate, scusate. È stato accertato che il fantasma non manca mai di mostrarsi in occasione della morte di un Canterville. Praticamente si comporta come un medico di famiglia. Tornando al signor Otis, devo dire che non si mostrò per niente turbato all'idea di un fantasma. Disse che come americano era portato a trovare la cosa piuttosto inusuale. Comunque sia, decise di comprare in blocco mobili e fantasma. E si stabilì a Canterville Chase con tutta la famiglia. Che cos'è un fantasma? Sono certa che il fantasma studiò nei minimi dettagli questa sua prima orrida presentazione, passando in rassegna tutti i possibili travestimenti. Ruben il rosso. Ruben il rosso come uno sesso, faceva sesso. Faceva sesso. Noi siamo americani, cosa si può mai temere? Vede Repubblicana nelle armi e nel potere. Una sera, mentre mi trovavo da sola in cucina a lucidare l'argenteria... Che c'è? Chi è? Signor Amney... Signor Amney, non svenga per Dio, lo sto possedendo. Cosa? Non si faccia illusioni. Si tratta solo di una possessione mentale. Si rilassi. Noi siamo la libertà. Lei mi serve, ho un piano. Questa notte, alle una, entrerò. All'attacco! Mi hanno preso a cucinato. Mi hanno centrato in pieno. Tutte le volte. Senza mai sbagliare un colpo. Eppure sono bambini. Sir Simon. Sir Simon è qui. Se desidera qualcosa. Se mi vuole possedere, intendo come l'altra volta, mentalmente. Io sono pronta. Lo so che la sua ultima apparizione non ha avuto il successo che meritava. Ha fatto comunque la sua impressione, eh? Sì, sì. Sono tutti molto, molto spaventati. Signor Amney, non menta. Questa orrenda famiglia americana è indistruttibile. E io non ho armi adeguate, lo ammetto. Io credevo di avere una funzione, invece. Sono una cosa vecchia, ridicolizzata. Vorrei spegnere, ma non posso. Non posso. Sir Simon, sono così dispiaciuta. Potessi, potessi aiutarla. Signor Amney, lei è vergine? Cosa? Ma come si permette? Oh, beh, perdoni la franchezza della domanda. La mia non è curiosità. Era solo un'idea. Un'ipotesi, vede. Io desidero così tanto raggiungere la pace eterna. È l'unica possibilità. È quella di essere traghettato nel regno delle ombre da una vergine. Potrebbe provare con la signorina Virginia. Quel pomeriggio, il giovane duca di Cisciair chiese la mano di Virginia. Ero così felice, felice, felice. All'inizio non ci feci troppo caso. Pensai che qualcuno avesse lasciato un soprabito lì sulla poltrona. Però mi sembra di un colore strano. Nessuno in casa vestiva di un verde così muffito. Oltre il bosco, le colline, oltre il mare, c'è un giardino dove poter riposare. Tu mi puoi aiutare. Puoi aprire per me i portali della casa della morte. Sir, veramente non ho capito molto. Comunque, vogliamo andare? Virginia ha traghettato il fantasma nel regno dei morti. E il duca di Cisciair, voglio dire Cecil, si è rivelato un marito molto affettuosa, carina, gentile, tollerante, fedele. Non ha difetti evidenti. Un marito ideale. Non è neppure troppo curioso. Soltanto una volta ha accenato al fatto. Si, voglio dire, alla mia sparizione. Virginia, tesoro, non hai mai detto cos'è successo con il fantasma. Una moglie non deve avere segreti con il marito. Ma sei, Silcaro, io non... Ma i fantasmi, come i sogni, abitano nel fondo della nostra anima. Ti prego, Cecil. Non mi andava ad insistere sull'argomento. Eravamo a letto. Ho finto di dormire. Notte, Cecil. Simon? Simon, sei qui? Non mi andava a letto. Sincero, io non mi andava a letto. Non mi andava a letto. Non mi andava a letto. Fincero, io non mi andava a letto. Grazie a tutti.